Salute a tutti e benvenuti con la nostra nostra vita di Sardinia Post. Abbiamo un incontro di cultura. Abbiamo un monumento aperto sulle manifestazioni che da 18 anni ha dato la possibilità di accogliere dei bielli che entra a prendere delle arti più bello a schiamare la nostra terra. Quest'anno, dopo che in fine chiedeva, si tratta di bielli e creare il museo e l'archeologia della natura del Baranta e del Comune. Abbiamo messo tutti i miei volontari che hanno accompagnato le persone, in più di chi viene dal luogo. Sono Gigantari del Montebramo, in Castel di Incabras, a Sagresia del Saccargia in Codronianos, San Roccarruias in Suede e Arbatax Pomodenarre. Si comminza in Codronianos, Flumin di Maggiore, Oristanici, Santu Gavvino, Salluri, Sardara e Tattari. Si serra di Ingonos Fanatica, Iglesia, Solbia, Porto Torres, Porto Scuso, Quartuccio, Quartus Antellena, Santa Iusta, Seragius, Soleminis e Villasor. Un momento importante a Saberu finisce a sposo turismo che vuole dare i triballi a Saberu, superdotto se sono giovani, os abilese e chi tiene le passione, può sarte e può sà la cultura. E da questa cultura passiamo a sarno a fare dei triballi. E' partito su primo de' maio e ad assicurare e finire saccando un progetto di garanzia giovani che questa regione ha fatto con il suo ministero su triballi. sono pronti a scambiare un milione d'euro, potremmo dare a scambiare giovani o sardosi una possibilità di sformare o di poter accettare un posto. Sono giovani che in triballiare sono iscriviti in internet o ad accettare a Siendasa chi sono in che ricorda. E speriamo che si vada a muovere a scosare. E se sono giovani che sono i triballi o dai resi, non si passano a mezzo che si riazzano in questa Biblioteca. In due mesi e tre, se sono stati aperti, sono 181 siendas o no a persone che tenono più di chi è in Quintana. Tre che è in Tarbaranta, mentre il costo ormai del nostro è questa prima volta che tenono una sienda. Non ha dato una chiercola che ha un'artigianata sarda. Se no fa, non è stato un bambino che si è più buono, ma i miei soldi sono aperti a Malaozza che hanno tenuto più su uno posto il triballio e si viene mandato a Sardasa. salvare miliardi in solo. E passiamo al suo scontro di politica. La giunta regionale ha pedito al suo governo di Roma continuare a rinforzare il suo luogo offerto di alluvione di San Nicolato. Il suo presidente della regione, Francisco Pigliaro, ha nato che il suo comodo abbia solo 15 milioni di euro in dei servizi di iniziatria e chimica intermillione. Tocca dell'osa cattare in pressa e dimandando l'offenza di Europa. E a Barrande, incontro di Inari, l'antitrust, autorità garante del mercato e della concorrenza, ha posto una multa di 15 milioni di euro sulla TecnoSol, la società che ha venduto a metter la famiglia a sardare con un don imbolico sul pannello spavogare l'elettrico da Isusole. L'azienda ha promettato in sua pubblicità di dare il pannello spavogare una gisina. Ma non fugga, la famiglia è stata una domanda di consumi che ha denunciato su TecnoSol che non poteva pagare la multa. Come entrambi il incontro della Gronaca? Nella morte a Mercurius, a vecchia, all'ombra di due anni, la rapina una visetta di Uras. La giovane vive dentro una Renault Clio con altri tre amici, che sono in sospedale. La macchina è attrippata forte contro una Ford Focus a Sartaria del centro commerciale Oceano Sant'Agile in Castello, a ora di Sardeghe di notte. La Clio è viazzata in una strada dove non poteva passare. e dopo questa chiediamo finito, non vediamo se la chieda in entrata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.